Nella sezione elenco goal è possibile vedere tutti i dati dei goal subiti dai portieri, sia attraverso gli schemi previsti dall'applicazione per indicare la posizione della palla del portiere del marcatore, sia attraverso disegni, foto, audio e filmati eventualmente inseriti. Inoltre sono presenti riquadri gara e portiere dove sono riportate brevemente alcune informazioni rilevanti. Scegliendo l'icona di dettaglio compaiono le rispettive schede con informazioni ancora più dettagliate ed eventualmente modificabili.